Roma in diretta, Roma in diretta, buongiorno ai nostri cari telespettatori, inizia una nuova puntata con la nostra trasmissione, siamo in vostra compagnia da adesso, sono le 13 credo passate da qualche minuto e resteremo in vostra compagnia fino alle 14. Attenzione perché tra poco parleremo di un tema che ci riguarda tutti, parleremo dell'obesità, un problema molto serio che si può iniziare a combattere, scopriremo fin dalla prima infanzia, anche perché poi le ricadute sulla nostra salute e non soltanto sulla linea, diciamo così, le ricadute sono molto serie, molto importanti, ne parleremo con due grandi esperti. Prima però come ogni giorno andiamo velocemente a vedere che cosa sta succedendo in questo momento in città, quali sono le notizie che tengono banco sulla stampa locale, iniziamo con Repubblica.it che apre con una notizia di cui si sta occupando anche il nostro telegiornale, c'è un nuovo arresto, ricordate la brutta vicenda delle baby squeal, ne abbiamo parlato anche molto qui a Roma in diretta, ebbene dicevamo un nuovo arresto, sfruttava altre ragazze filmati addirittura i rapporti coinvolte nel giro di prostituzione anche due diciannovenni, ad una sedicenne avrebbe invece venduto hashish e cocaina, quindi veramente una situazione che si fa sempre più intricata. Lasciamo tra un attimo il sito di Repubblica, non prima però di avervi segnalato una novità, che è stata introdotta la mappa delle notizie, quindi cliccando sulle varie zone vediamo quello che sta succedendo nella nostra città, quartiere per quartiere, come vedete appunto le notizie vengono localizzate proprio sulla cartina della nostra città, così oggi dunque si presenta Repubblica. Andiamo invece sul Corriere che da qualche giorno, anche il Corriere ha introdotto delle novità, ha una nuova veste grafica, Corriere.it, Dorso Romano apre invece con la notizia che riguarda i vigili del fuoco, mezzi vecchi e guasti, ci sono guai anche per i vigili del fuoco, dice il Corriere interventi a rischio, in questo articolo a firma di Giuseppe Cucinotta. Ancora vediamo una notizia che arriva invece da Rieti, due arresti, truffa sui dializzati portati in ospedale in auto, anziché con l'ambulanza e sono finiti in manette un medico, un suo collaboratore, dice l'accusa usavano veicoli privi delle misure di sicurezza per portare i malati di Reni da casa all'ospedale dell'Ellis di Rieti. E poi ancora le notizie in primo piano, troppi falsi incidenti truffate, le assicurazioni, ancora la vicenda delle baby squillo, in primo piano anche il presunto coinvolgimento del marito della Mussolini e poi una class action di cui si occupa oggi Lilli Garrone dei cittadini del centro contro la Movida, è un tema che senz'altro approfondiremo. Infine vi segnalo la notizia che riguarda l'Atac, fallirà Atac se Comune e Regione non pagano, un esposto per 1,2 miliardi di euro. L'altra notizia è quella invece dell'aborto che sarebbe avvenuto in un bagno dell'ospedale Pertini qualche anno fa, oggi arriva la denuncia, è un tema che approfondiamo tra poco qui a Roma in diretta con l'avvocato che segue la famiglia della donna che segue la donna che ha fatto questa denuncia. Poi fine con Roma Today, Monti dell'Ortaccio, la Regione revoca l'autorizzazione, stoppa la discarica, la decisione contenuta in una determinazione del 28 febbraio 2014, tra i motivi anche il rischio idrogeologico, attacca Santori, solo motivazioni tecniche e manca la volontà politica. Questo per dirvi insomma quello che succede e che si muove in questa giornata in città. Domani invece ci sarà un importante convegno dedicato alla salute, allo sport e all'alimentazione. L'obesità a tavola si svolgerà a Nettuno, è un appuntamento che è un patrocinio della città di Nettuno ma che è stato organizzato tra gli altri, vedrà partecipare tra gli altri i medici di Artoi, noi li abbiamo avuti spesso in trasmissione, nasce in qualche modo una nuova collaborazione, ci hanno promesso presenti almeno una volta al mese se non di più per darci indicazioni importanti. L'Artoi è l'associazione ricerca e terapie oncologiche integrate, noi abbiamo qui in studio tornano il professor Massimo Bonucci, buongiorno, bentornato nei nostri studi, e Rolando Alessio Bolognino. Alessio Bolognino, com'era? La trote mi ha corretto, ma non me lo ricordo. Rolando, Rolando Alessio. Rolando Alessio. Rolando Alessio, tutti e due. Rolando Alessio vanno bene tutti e due, quindi mi pareva invece che ce ne fosse uno solo, va benissimo. No, uno è preferito. Ah, qual è? È Rolando. Allora io la chiamerò Rolando Bolognino, va bene. Buongiorno, benvenuto. Dottor Bolognino è tra l'altro un nutrizionista e docente, master di primo livello, giusto? Sì, alla Sapienza. Per la Sapienza e quindi davvero, diciamo, forse oggi ancora più avremo bisogno del suo aiuto per chiarire i temi di cui ci andiamo occupando, però vorrei con il dottor Bolognino intanto capire come è stato organizzato un appuntamento dedicato all'obesità, ovviamente a tavola, partendo da dati ho scoperto davvero allarmanti. Sì, buongiorno a tutti. Questo evento è stato organizzato fra l'altro dal comune di Nettuno e da due colleghi che sono soci Artoi, una è una dottoressa in scienza nutrizione e l'altra è un pediatra, dalla loro esperienza. Ed è stato visto fra l'altro che questo che hanno fatto era legato al fatto che trovavano bambini leggermente sovrappeso. Hanno fatto uno studio addirittura su 1.200 bambini della zona di Nettuno, Aprilia, e purtroppo è venuto fuori un dato, come dicevamo prima, allarmante. Il 57% dei bambini sono sovrappeso. Più della metà. Più della metà sono sovrappeso. E questo è un'indicazione veramente allarmante perché ci porta verso una, fra virgolette, americanizzazione che abbiamo visto fondamentalmente non va molto bene. Fra l'altro, mentre diciamo prima, questo trend in Italia sta veramente diventando molto alto. È successo invece che con la First Lady in America hanno avuto una regressione addirittura del 43% dei bambini obesi da 5 a 7 anni. Quindi quella che una volta era la patria dell'obesità, adesso sta tornando indietro, invece noi cominciamo ad andare in quella preoccupante direzione, cioè quella dell'obesità. Questi chili di troppo diventano poi obesità. Prima di andare poi dal professor Bolognino, io volevo capire una cosa. I bambini sono belli, no? Quando sono paffutelli. Io la ricordo quando ero più piccolina. I bambini paffuti erano quelli considerati quelli più in salute. Io ero magrolina e c'era la grande preoccupazione dei familiari come magra. Com'è la questione? La questione è che quando noi eravamo bambini, diciamo venivamo fuori da un periodo particolare in cui chi era magro era visto fondamentalmente uno che mangiava poco. Magari del nutrito, e quindi del nutrito. Chi invece era in carne era la famiglia che mangiava bene, il bambino che era bello pieno. Purtroppo nel tempo, circa 20 anni, 30 anni, è stato visto che questo essere grosso non è poi così o paffutello. Il bimbo bello pieno fondamentalmente non andava bene. Però c'è rimasto un po' nell'immaginario collettivo che il bambino paffuto è un bambino sano. E allora, qua arriviamo a lei, caro. Però se è vero che fanno più tenerezza, un bambino in sovrappeso è potenzialmente un adulto obeso. Quando è che inizia a considerarsi in sovrappeso un bambino? In sovrappeso abbiamo dei percentili, fino ai 12 anni utilizziamo dei percentili, lo fa il pediatra, o lo facciamo noi nutrizionisti. E quindi ci sono delle scale che vengono utilizzate, una distribuzione a campana cosiddetta, che individua il cinquantesimo percentile come il peso corretto. Cioè la metà, cioè siamo nella media. Siamo nella media della popolazione, perché dobbiamo ragionare in termini di popolazione. Poi però diventa un po' più fine l'analisi se si vede quel bambino quanto è alto per l'età che ha e si va a fare anche un po' quella che è la storia familiare. Quindi se c'è una predisposizione all'obesità da parte della famiglia. E' importante dire, a riguardo dei bambini baffutelli, che intorno ai 9-10 anni si comincia a formare, a creare, quella che sarà la mappatura lipidica. Cioè si strutturano in iperplasia e in ipertrofia i lipidi. Che vuol dire, queste sono parole un po' difficili. Vuol dire che si struttura la popolazione dei lipidi in grossezza. I grassi, praticamente. Sì, sì, le cellule diventano cicciotte e diventano numerose. Iperplasia, quindi, sono molte. Sono ipertrofiche, sono grandi. Quindi, un bambino che diventa ragazzo, adolescente, con una popolazione adipocitaria così strutturata, sarà un adulto che lotterà sempre per mantenere un peso normale e avrà invece una facilità alla deposizione di grasso. Quindi, bambino paffuto, se ce l'abbiamo dai ricordi del dopoguerra, è comprensibile. Ad oggi, dove il cibo non manca, dobbiamo cercare di avere dei bimbi sani e potenzialmente magri. Ecco, è importante anche il discorso dell'età, no? Immagino che un bambino particolarmente, il lattante, chiaramente, è un po' fuori da questo discorso, no? Quando cominciano ad alimentarsi, è già da lì che possiamo iniziare le buone pratiche? Già dai 5-6 anni è importante, bisogna lavorare bene. E' importante, bisogna lavorare a casa, a casa nel cercare di ridurre le merendine e i cibi pronti e cercare di aumentare l'attività fisica intesa proprio come vita attiva, non la piscina tre volte o due volte a settimana, la vita attiva. Oh, adesso ci arriviamo, perché come vedete sono diverse le componenti. Intanto quello che diamo da mangiare, chiaramente, ai nostri figli. E anche questo, così come poi arriveremo anche alla componente dell'attività fisica, racconta un po' dei nostri stili di vita attuali, no? Avete citato le merendine che sono, senz'altro, la maniera più semplice per le mamme che lavorano di soddisfare le esigenze dei bambini. Non è così, una volta si facevano le torti, io una volta mangiavo pane, burro e zucchero. Forse era meglio? E molto in mente sia il pane che era un pane migliore, il burro era un burro fatto dalle mucche. Oggi anche pane, burro e zucchero. Purtroppo fare burro e zucchero sicuramente non è quello, non è l'indicazione. No, poi io correvo tutto il giorno. E ci si muoveva. E là il problema che ci si muoveva. Il concetto fondamentale è proprio questo. Noi possiamo utilizzare anche la quota di zuccheri piuttosto che di grassi. Attenzione che nelle merendine ci sono i grassi idrogenati, che sono grassi, l'abbiamo detto già l'altra volta, che fanno bene al palato, ma non al nostro fisico, né alle nostre cellule, né niente. Mentre invece tutto questo che dà una quota calorica X, noi quando eravamo piccoli ci muovevamo dalla mattina alla sera e quindi consumavamo. Attualmente la maggior parte dei bambini, come diceva Bolognino, fanno tre volte alla settimana, ginnastico, fanno un piscina e basta. Quindi non è nient'altro. Non è assolutamente sufficiente. Tra poco poi arriviamo, professor Bolognino, con lei anche perché stiamo parlando dell'importanza di prevenire l'obesità. Le chiederò e vi chiederò il senso anche di prevenire l'obesità. Perché l'obesità è un problema? Abbiamo scartato la questione della linea, la questione dell'aspetto fisico, perché non ci interessa. Ci interessano però le questioni che riguardano la salute. Prima però mi incuriosiva questo discorso dell'alimentazione, quindi come, cosa dobbiamo dare da mangiare, e qui ho bisogno del professor Bolognino, ai nostri bambini e soprattutto come facciamo a farli muovere. Perché mi avete detto che non basta portarli tre volte alla settimana a fare attività fisica, cosa che credo facciano più o meno tutti i ragazzini oggi, no? La palla a volo, la palla a canestro, karate, nuoto. Diciamo ci muoviamo per dargli quello che è il minimo sindacale. Il minimo, sì, non basta. Per noi è tanto, perché vuol dire prenderli, portarli, seguirli. Certo, c'è un impegno da parte della famiglia e non basta. No, perché se noi pensiamo di quante ore un bambino è sveglio nella settimana, e sono circa un centinaio, noi gli diamo tre ore di sport. Niente. E il resto è seduti a colorare, a disegnare, a guardare la televisione, a mangiare. A giocare con i videogiochi. Sì, a seconda delle varietà. Io ho una bimba di cinque anni ancora sui videogiochi, si sposta poco, ma... Guardi, arriva presto. Insomma... Ne lo posso assicurare, manca poco. Quello che manca è scendere giù al cortile con l'amico, con l'amica, è inseguirsi, giocare a palla, andare sui pattini. Fare, anche con la famiglia, il sabato e la domenica, è un'ottima cosa poter andare in una villa, prendersi la bicicletta tutti insieme. Certo, il bambino che non è abituato dirà che è stanco, che non gli va. E il nostro compito è quello di insegnargli che si stanca, ma ci si diverte. Trasmettere questo messaggio, si ci si stanca, ci si diverte e fa bene. Che al bambino faccia bene, adesso non interessa. Ma noi dobbiamo insegnare come si fa. Certo, siamo noi a dare il buon esempio più sugli stili di vita. Quindi voi ci dite che quello che succedeva una volta, io credo che fra i nostri telespettatori ci siano tanti che hanno ricordi, dei giochi in cortile, abbiamo fatto anche delle puntate qui su questo argomento, si giocava alla campana, cioè si saltava, si correva. Oggi questi bambini, per tante ragioni, purtroppo non lo possono fare. Sì, anche i sociali, abbiamo meno spazi verdi, tutti quanti... Più automobili. Più automobili, spesso nelle famiglie lavorano padre e madre, prima magari la figura almeno della mamma era un po' più presente. Quindi oggi c'è un discorso anche di difficoltà nell'essere presenti e poterli fare giocare. Quindi ci dobbiamo reinventare questi momenti. Ci dobbiamo aiutare, anche perché, lo ripeto, il bambino sovrappeso oggi è l'adulto obeso di domani e l'adulto obeso di domani ha delle problematiche enormi che impattano sulla salute generale. Adesso ci arriviamo, anzi vorrei intanto cominciare ad affrontare questo. Poi però, Bolognino, ho altre domande per lei, perché poi voglio capire cosa possiamo dare di sano ai nostri bambini e anche qualche suggerimento, credo, a chi ci sta ascoltando. Perché non è facile, i bambini, mi dicevate giustamente, le merendine sono non buone, però spesso sono quelle che loro chiedono. Sono molto semplici. Per noi genitori, ma anche per loro bambini, più facili. Vagli a proporre in alternativa alla merendina un passato di verdure, insomma, o il pesce lesso, non lo so. Una mela, una pera, sicuramente. Una mela, una pera. Adesso parliamo anche di questo, però vorrei capire, perché vedevo il professor Bonucci che giustamente diceva attenzione alle conseguenze, cioè oggi il bambino è paffuto, ha qualche chilo di troppo, domani può diventare un adulto obeso, e quindi? L'adulto obeso ha una serie di problematiche legate all'obesità, quindi al maggior peso corporeo. Il maggior peso corporeo danno problemi a livello cardiaco, problemi cardiocircolatori. Abbiamo un problema di diabete, abbiamo un problema non di lipertensione, quindi più peso, più tessuto adiposo, più difficoltà, problemi respiratori, broncopolmonari. Non ultimo, problemi neoplastici. Il paziente obeso ha circa il 20% di possibilità, maggiore rispetto a un paziente magro, di essere colpito da tumore. Perché tutto questo porta ad una infiammazione del corpo? Il tessuto adiposo è un tessuto che produce sostanze, produce ormoni, produce citochine, piccoli enzimi pro-infiammatori, che vanno a dare, fra virgolette, fastidio a tutto il resto dell'organismo. Ripeto, la cosa più importante è il diabete e i problemi cardiaci. Sono l'effetto più immediato del grasso di troppo. L'effetto veramente immediato perché, fra l'altro, anche il bambino obeso ha praticamente una difficoltà a correre. E quindi si comincerà a estraneare, allora andrà in una parte da solo, allora comincerà più a giocare. E lì c'è il circuito, praticamente, più è sovrappeso, più ha difficoltà a dare a giocare a pallone o andare anche in piscina. E a quel punto sarà sempre più mangia da solo, perché poi più mangia più il nostro mangiare. Ed uno degli articoli che c'erano sui giornali in questo periodo era che lo zucchero è come l'alcol. E quindi tende a far mangiare ulteriormente zucchero. Più mangio zucchero, più aumento, praticamente, la mia... Crea proprio dipendenza. Crea dipendenza. Quindi bisogna stare molto attenti a questo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso, ha dato un'informativa, di ridurre la quantità, l'apporto giornaliero dello zucchero dal 10% al 5%. Cioè questa è una indicazione su quelle che sono le problematiche dello zucchero. Senza niente togliere alle industrie che fanno lo zucchero. Ma questa è veramente una problematica importante perché il bambino che è obeso adesso, già ha i suoi problemi ora, da adulto ne avrà veramente molto molto di più. Quindi è veramente importante rifletterci. Quindi dare le cose giuste da mangiare ai nostri bambini aiutandoli a muoversi di più. Di questo si parlerà domani. Dare le cose giuste, abbiamo un paio di minuti. Cosa dobbiamo dare ai nostri bambini da mangiare? O forse farei prima chiedergli cosa non proprio dobbiamo dare? Sforziamoci di guardare cosa dobbiamo dare. Perché per noi la parte difficile, per noi genitori, la parte difficile comincia ad esempio a insegnargli a mangiare le verdure. Però anche lì costruiamo le abitudini del domani. Quindi è meglio perderci 10 minuti in più. Quando hanno 3-4 anni. Esatto. Il gusto è una cosa che si educa. Allora, lo stesso vegetale fatto lesso a fettine o fatto in purea con un po' di sugo e un po' di parmigiano viene accettato diversamente. Il fritto chiaramente è meno sano del non fritto. Ma è meglio dare una verdura in pastella a un bambino anziché avere no. Io le zucchine lessse non le mangio. Certo. Cerchiamo di inventarci modi diversi di proporre magari quello che anche all'occhio può sembrare. Non è l'unico modo di dargli le verdure, cioè pastellate. Però bisogna cominciare ad educarli. Per farli familiarizzare magari con i sapori che inizialmente chiudano. Come col pesce. Poi ci sono bambini che sono predisposti a mangiare i cavoli, i broccoletti, gli aspargi. Li conosco. Esistono. 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 Però tutti quanti mangiano almeno 3 o 4 verdure. Chi le preferisce passate, chi le preferisce intere, chi le preferisce in bianco, chi ha il sugo. Bisogna impiegare energia. Una volta una vostra collega, una sua collega mi disse anche qui in trasmissione, mi diede un suggerimento che poi ho conservato, di provare di tanto in tanto a riproporre anche ciò che inizialmente è stato rifiutato. Non so, i broccoli oggi dice no, probabilmente fra un mese magari presentati. I sapori cambiano, fanno parte della crescita del bimbo. Non arrettersi. No. a rifiuto del bambino. Una cosa che dobbiamo anche cominciare a dire è che se la mamma ha cominciato a mangiare le verdure già in gravidanza, quindi tutto quello che è possibile mangiare, il bimbo l'ha già mangiato, ha già assaporato il problema. Quindi lo riconoscerà, perché questi sono studi ormai fatti da tempo. Si ha sodato. E quindi quando le mamme in gravidanza non mangiano una cosa perché se no fa male, è buona, è da l'acido, non ci crediamo a queste cose. Anche nell'allattamento poi soprattutto sommato. Nell'allattamento specialmente perché poi il latte passa attraverso questo. Quindi il bambino sente il carciofo, sente lo spinacio attraverso il latte e questo se lo ricorderà. Forse non gli piacerà, non lo so, ma se piace alla mamma poi piace anche al bambino. E più c'è questo feeling fra mamma e bambino, dopo sarà molto più semplice dare da mangiare le spinacio, le cipolle, gli asparagi, qualsiasi tipo di verdura cotta, quella di campo, che fa benissimo. Tutte queste indicazioni valgono ovviamente per i nostri bambini, perché è bene farli crescere in maniera sana, ma valgono anche per noi adulti. Noi siamo il modello di riferimento dei bambini da tutti i punti di vista. Voglio vedere quale padre in sovrappeso, con la sua birra davanti al divano, può dire al bambino, può sgridarlo che non è andato a fare sport. Certo, che non mangia sano. O che non mangia le verdure, sei il primo a non mangiarle. Implicitamente noi diamo già dei messaggi. Poi dobbiamo strutturare bene i messaggi che gli diamo, nel senso che non deve mancare mai la porzione di verdura, anche cotta, ma va data l'abitudine. Non deve mancare mai il pesce, ma la frutta si riesce perché è dolce. Con la frutta ci si riesce, con la frutta ci si riesce. Ha ragione, ha ragione, ha sperimentato sulla propria pelle. E poi i legumi, perché dobbiamo cominciare a insegnargli a ridurre la quota delle proteine animali. E questo non si impara a 30 anni. Questo si inizia a imparare da piccoli, che un paio di volte a settimana i fagioli, le lenticchie, i ceci, vanno assunti con dei carboidrati complessi, meglio se integrali. Ma loro non lo sanno che esiste l'integrale raffinato. Non lo sanno, non lo raffinato. Però facciamogli assaggiare subito l'integrale. Non dobbiamo essere talebani. Non va proibito niente a un bambino. Certo, ci mancherebbe. Insomma, avete sentito quanti consigli utili. Io credo, ripeto, importanti per tutti coloro i quali in questo momento ci stanno seguendo. Hanno dei bambini piccoli, quindi stanno pensando al futuro dei loro figli. Ma anche per noi adulti, perché queste sane abitudini riguardano tutti quanti. Possiamo dire che non è mai troppo tardi per rimettersi in carreggiata. Soprattutto per iniziare a fare sport. Per iniziare a fare sport. A muoversi. Basta muoversi. Fare sport non significa andare a fare l'Olimpiadi. Basta muoversi. Basta una bella passeggiata al sole. È veramente buona anche perché c'è vitamina D. Vitamina D aiuta il colon, il polmone, mammella. Quindi a dare una protezione veramente molto importante. Quindi stare al sole. Abbiamo questo bel sole per fortuna su Roma dopo le piogge invernali che ci sta regalando già un assaggio di ormai primavera. Quindi godiamo, se lo andiamo ce ne ha spasso. Va bene, io devo purtroppo salutarvi. pur restando ancora tante domande. Seguiteli questi consigli perché sono importanti. Se volete saperne di più c'è anche il sito di Artoi al quale vi rimando. Eccolo qui, artoi.it. L'Artoi è l'associazione di ricerca a terapie oncologiche integrate. E appunto si riflette su quanto si possa fare per prevenire la malattia che senz'altro è una di quelle che ci spaventano di più mangiando sano e facendo appunto una vita sana. Grazie ai nostri ospiti. Grazie per esserci venuti a trovare. Ci vediamo qui almeno tra un mese. Se non prima, vediamo un po' se riusciamo. Anche perché così facciamo questa scuola di stile di vita. La vorrei chiamare così. Io vi seguo attentamente. Da quando vi ho qui ho cambiato stile di vita. Lo giuro. È stata un po' meglio? Molto meglio. I vostri consigli sono molto preziosi. Io e i miei figli. Grazie. Grazie ai nostri ospiti. Ci fermiamo. Adesso c'è una breve pausa. Restate con noi perché adesso parliamo di un tema molto delicato. è uscita in questi giorni la notizia di una denuncia di una mamma che ha dovuto abortire per una grave malformazione del feto che aveva in grembo al quinto mese di gravidanza. La denuncia di questa mamma è quella di essere stata sostanzialmente, pur avendo abortito in un ospedale, di essere sostanzialmente stata abbandonata. Cerchiamo di capire un po' di più di questa brutta storia tra poco.